Buonasera, in prima pagina torniamo ad occuparci della vicenda della Porto d'Imperia SPA per la quale sembra profilarsi ormai il fallimento. Sulla questione interviene il sindaco Carlo Capaci che in particolare punta il dito sulle banche. Vediamo. Non è certo il Comune ad essere responsabile dell'eventuale fallimento della Porto d'Imperia SPA ma semmai le banche che prima hanno concesso denaro senza attuare le opportune verifiche e chiedere rientro almeno in parte in occasione della vendita di posti barca e ora non sottoscrivono l'accordo per salvare la società. A farsi avanti in questo senso il sindaco d'Imperia Carlo Capaci che ribadisce come il Comune sia sempre stato favorevole al salvataggio della società tentato con impegno dall'amministratore unico Giuseppe Argirò. Capaci ha ricordato anche la disponibilità del Comune a concedere una proroga della concessione per ultimare i lavori a fronte di un serio piano industriale. Piano che però non è possibile nemmeno prevedere senza l'accordo con le banche. Intanto per lunedì è stata convocata l'assemblea dei soci della Porto SPA. In quell'occasione Argirò relazionerà sulla difficile situazione che si è venuta a creare da quando ieri il Tribunale ha fatto sapere di non voler concedere ulteriori proroghe per la conclusione del concordato antifallimento. Ancora una volta le vicende del porto turistico d'Imperia si intrecciano alla cronaca giudiziaria. La Guardia di Finanza ha infatti denunciato per corruzione l'ex parlamentare Cristina Destro legata all'ex ministro Claudio Scaiola per 500 mila euro pagati da Francesco Bellavista Caltagirone. I particolari in un altro servizio. L'ex parlamentare ed ex sindaco di Padova Giustina Destro prima di Forza Italia e poi del gruppo misto è stata denunciata per corruzione dalla Guardia di Finanza. Le fiamme gialle del Veneto infatti sulla scorta di un'inchiesta partita dalla procura d'Imperia un anno fa hanno trovato pagamenti per 500 mila euro fatti alla Destro da società del gruppo di Francesco Bellavista Caltagirone e ufficialmente riferiti a delle consulenze. Gli investigatori ritengono però che si tratti di denaro versato da Caltagirone per ripagare la Destro di una cena che l'ex parlamentare avrebbe organizzato fra l'imprenditore inquisito per la costruzione del nuovo porto turistico imperiese e l'ex capo della polizia deceduto per malattia Antonio Manganelli su richiesta dell'ex ministro Claudio Scaiola. Motivo dell'incontro è il tentativo di togliere l'inchiesta sul porto dalle mani della polizia postale d'Imperia. Manganelli aveva sempre smentito tale circostanza ma di fatto due alti dirigenti della polizia di Stato vennero a Imperia per proporre alla procura della Repubblica di sostituire o affiancare gli uomini della postale nei delicati accertamenti. Un'offerta che la procura respinse a pie pari. E' polemica in provincia d'Imperia dopo l'approvazione del bilancio consuntivo del 2013. Per la maggioranza infatti il documento economico chiude con una perdita di 2.250.000 euro soltanto a causa di quanto indicato dalle recenti disposizioni legislative in materia di patto di stabilità ma in realtà la situazione economica dell'ente non sarebbe così negativa. Invece secondo il capogruppo del PD Riccardo Giordano il disavanzo di oltre 5 milioni di euro e la provincia è da tanto tempo in una condizione di disesto economico prossima al default finanziario da cui non riesce a risollevarsi. Per Giordano che ammette le difficoltà create dalle leggi nazionali comunque la vera ragione dell'attuale Stato di disesto della provincia va ricercata nelle scelerate gestioni degli anni precedenti. E' stato identificato il cadavere trovato in avanzato stato di decomposizione la settimana scorsa in una galleria della tratta ferroviaria Sanremo Bordighera. Si tratta di un trentenne di origini moldave bocambitalie affetto da problemi psichici il quale si è allontanato dall'abitazione dei familiari a Padova già avvisati dicendo di voler andare da un'amica in Francia. Le indagini sono state svolte congiuntamente dal gabinetto provinciale di polizia scientifica della questura di Imperia dalla polizia ferroviaria di Sanremo e coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica Roberto Cavallone. Macabro ritrovamento questa mattina a 20 miglia sulla spiaggia di fronte allo stabilimento Sirena è stato infatti rinvenuto il cadavere di un uomo bianco dall'apparente età di circa 40 anni. A dare l'allarme è stato un passante ed è intervenuta alla polizia. Gli agenti della scientifica hanno compiuto una serie di rilievi per cercare di identificare il corpo senza vita che era privo di documenti e risalire alle cause del decesso. La polizia ha dato esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Imperia a carico di un cittadino tunisino di 49 anni da tempo domiciliato a Sanremo. L'uomo aveva patteggiato la pena di tre anni di reclusione per i reati di favoreggiamento personale, falsi vari, milantato credito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commessi tra il 2008 e il 2009. Ora la sua condanna è divenuta definitiva e l'uomo dovrà scontare due anni e sei mesi e 15 giorni di reclusione. Tragedia. Ieri a Savona in via Mignone il crollo di un terrazzo a livello strada ha causato la morte di un anziano. I particolari in un servizio. Il crollo di un terrazzo avvenuto ieri a Savona in via Mignone ha causato la morte di un uomo Alda Ugeri deceduto dopo essere stato trasferito in ospedale. L'anziano aveva addirittura telefonato col cellulare alla moglie avvisandola di quanto era accaduto. La procura di Savona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo mentre tutta l'area del crollo è stata posta sotto sequestro. I residenti della zona hanno detto di aver sentito un fortissimo boato. Accedere all'improvviso è stato un terrazzo a livello strada che è sprofondato in un fossato sottostante trascinando l'uomo che stava transitando in quel momento. Corollate anche le scale di accesso a un condominio al civico 11 di via Mignone. E' stato trovato vivo questa mattina ma gravemente ferito Sandro Cesio, l'uomo di 81 anni scomparso lunedì da Casanova a Lerone. L'anziano era caduto in un burrone a poche centinaia di metri dalla sua abitazione e a notarlo è stato un contadino che si stava recando in campagna e ha subito dato l'allarme. Sandro Cesio è stato così recuperato dai soccorritori e trasferito in elicottero al Santa Corona di Pietraligure. E votiamo pagina. Si è tenuta presso i giardini comunali di Ventimiglia la festa con i bambini delle scuole nell'ambito della campagna nazionale. Diamoci una mossa promossa da Wisp e Conad. Questa campagna sui nuovi stili di vita è stata soprattutto rivolta alle scuole? Questa campagna sugli stili di vita è rivolta alle scuole ed è rivolta al futuro cittadino europeo che è la cosa che ha messo in movimento la Wisp d'Imperia insieme all'Usep francese e questo è il terzo anno che ci incontriamo. Abbiamo fatto dei progressi. I francesi restano due giorni, noi andremo la settimana prossima due giorni in Francia. Con i bambini piccoli non è facile, le famiglie sono molto attente, però come avete visto è una gran bella festa. Speriamo che questa idea dello scambio dei ragazzi possa diventare l'incontro per vivere serenamente vicini, senza le frontiere, senza le dogane, forse scambiandoci il lavoro. Si parte dalla famiglia, si parte dai ragazzi delle scuole elementari, siamo contenti di essere i protagonisti di queste manifestazioni. Sono contento e ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato in questa iniziativa. Nei prossimi giorni partiranno gli estate ragazzi, le famiglie possono rivolgersi alla Wisp della provincia d'Imperia. Quest'anno a San Lorenzo al Mare faremo estate ragazzi e quindi altra attività legata al doposcuola, legata allo sport, legata all'aria aperta. Con voi faremo una lunga strada. Siamo col dottor Ruggero Toscano, allora di Nordicon, ad questa collaborazione? Sì, noi siamo sempre presenti in tutte le iniziative che sul territorio possono mettere in evidenza le attività che danno importanza alle attività sportive, come in questo caso, per una vita sana, piuttosto che una corretta alimentazione, mettendo sempre in evidenza quelli che sono i prodotti tipici del territorio. Quindi cercando di ridare sempre buona parte del valore che recuperiamo dal territorio, di ridarlo al territorio stesso. E appunto il 70% delle iniziative che devolviamo al territorio sono devolute ad iniziative per l'infanzia, come in questo caso. Quindi siamo ben felici di aver partecipato a questo evento, ringraziando anche la WISP che ci ha dato questa opportunità e ogni volta che saremo presente dall'occasione saremo ben felici di partecipare. C'è un messaggio particolare che date ai ragazzi, in questo caso vita fana, sport? Sì, diciamo di prendere esempio da queste attività, non dimenticarsi mai che l'attività fisica è alla base di una vita sana e principalmente di seguire una dieta con prodotti naturali e sani, diciamo in generale, quotidianamente. Daniela Moro è responsabile del WISP, ecco che cosa stanno facendo esattamente qui i ragazzi è un progetto nazionale, diamoci una mossa, in collaborazione con la CONAD. Abbiamo sviluppato un 10-12 laboratori, tutto sull'alimentazione oppure anche sulle tracce del passato, comunque per avvicinare i bambini anche alla storia, a quello che mangiavano i nostri nonni. hanno lavorato da febbraio a maggio. La CONAD in questo periodo ha mandato a tutte le scuole dell'ottima frutta biologica perché i bambini si avvicinano comunque a sostituire la merenda, diciamo, merendine alla frutta. I bambini hanno preparato tutti questi laboratori, oggi è la realizzazione di questi laboratori. È un momento comunque che anche le scuole si incontrano, ci si conosce e si può anche organizzare, preparare per gli anni a venire dei villaggi anche sull'alimentazione. Quindi sono quelli, diciamo, chi spinge a questi stili di vita è il WISP comunque che fa questi progetti. Le scuole sono molto contente, vedete anche i bambini e speriamo che sia una bella giornata per tutti. Abbiamo ospiti una scuola di San Maximin, rimangono qua, visitano questo villaggio. Domani saranno ospiti a Camporosso Mare dove faranno con l'educatore ambientale i giochi di una volta. E noi la settimana prossima saremo ospiti da loro e abbiamo come programma l'incontro con i bambini e una passeggiata. Quindi è anche un modo per incontrarsi con altre realtà. Nell'ambito del ciclo di incontri che l'Arma dei Carabinieri ha pianificato con gli istituti scolastici di tutti gli ordini e gradi nel territorio della provincia, il comandante della stazione Carabinieri di Badalucco ha incontrato alcune classi della scuola media, nel corso del quale ha illustrato alcune tematiche legate alla cultura della legalità con attenzione al fenomeno del bullismo, del cyberbullismo, del vandalismo e soprattutto ai rischi connessi all'uso di droghe leggere. A conclusione dell'incontro il comandante Longobardi ha illustrato le varie terminologie riconducibili al mondo degli stupefacenti, al fine di coinvolgere anche le istituzioni scolastiche per poter contrastare il fenomeno dello spaccio e l'uso di sostanze stupefacenti. L'inflazione ad aprile è tornata a salire con il tasso annuo allo 0,6% dallo 0,4 di marzo. Si tratta della prima risalita dopo dieci mesi. Ce ne parla in un servizio a DN Kronos. L'inflazione ad aprile torna a salire con il tasso annuo allo 0,6% dallo 0,4 di marzo. Si tratta della prima risalita dopo dieci mesi. Anche su base mensile i prezzi crescono con un aumento dello 0,2 lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari più 0,2 sul mese più 0,6 sull'anno. Il rialzo mensile dell'indice generale è da attribuire agli aumenti su cui incidono fattori stagionali quali festività pasquali, prezzi dei servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Per i consumatori il dato sull'inflazione preoccupante specie se si considera che i consumi continuano a precipitare ed il rialzo dei prezzi non è quindi indicativo di una ripresa della domanda interna. Questa inflazione sottolinea il Kodakons nonostante sia in termini assoluti bassa, equivale in termini di aumento del costo della vita ad una tassa invisibile su base annua pari a 201 euro per una famiglia tipo di tre persone. Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato la proposta di legge di Francesco Bruzzone, capogruppo della Lega Nord. La proposta di legge era attesa ad adeguare e aggiornare i contenuti della legge regionale sulla protezione della fauna e sul prelievo venatorio al testo della norma nazionale. In particolare per quanto riguarda i tempi di caccia la legge introduce la possibilità di regolamentare il prelievo nel mese di febbraio sino a 10. Si precisano inoltre quali sono i soggetti avvalendosi dei supporti dei quali la regione può promuovere iniziative volte alla formazione e riqualificazione dei cacciatori. Si stabiliscono le procedure con le quali vengono approvati ed entrano in vigore i piani faunistici venatori provinciali e vengono ripartiti i proventi delle tasse regionali pagate annualmente da chi esercita l'attività venatoria. Ed ora facciamo una piccolissima pausa fra poco. Grazie a tutti. Andiamo avanti. Sta per giungere ai momenti finali il progetto Mimporta realizzato da provincia e comune d'Imperia e dai centri di educazione ambientale dei due enti con la collaborazione di Mosnesi Young. Domenica Imperia in programma la pulizia delle spiagge libere. Vediamo. Alessandro Bellotti. Monesi Young ancora una volta dimostra di non occuparsi soltanto dei monti, della neve, dei nostri paesaggi meravigliosi ma anche dei paesaggi meravigliosi costieri. Le spiagge, spiagge libere. Domenica che cosa farete? Oltre a quello che avete già fatto in precedenza ovviamente. La domenica è la parte finale del nostro progetto. Il progetto Mimporta 2014 è stato un progetto grande. Ha coinvolto la cittadinanza, ha coinvolto le scuole medie e superiori e adesso siamo all'ultimo capitolo che è incontriarci insieme per pulire. Durante questo percorso ci siamo resi conto che la sensibilizzazione è la parte più importante. Viene ancora prima della raccolta stessa. L'abbiamo imparato nei monti, nel senso che andando a camminare ti rendi conto di vivere in un paesaggio incontaminato, bellissimo, che abbiamo dietro casa e l'abbiamo voluto portare poi nella nostra città. Questa è la nascita del progetto Mimporta. Quindi ci vedremo alla spiaggia d'oro alle 9.30 di domenica per pulire insieme tutte le spiagge libere di Imperia. Ci saranno i pullman dell'RT che ci porteranno in tutte le spiagge e ci riporteranno poi alla spiaggia d'oro dove è il luogo dell'incontro, dove ci sarà un buffet offerto a tutta la cittadinanza. Nel pomeriggio ci sono delle attività ludiche, nel senso sportive, gratis per tutti. La campagna che abbiamo realizzato è stata realizzata grazie al finanziamento della provincia e abbiamo fatto una campagna di sensibilizzazione secondo noi molto importante. Premo a precisare il fatto che ad esempio abbiamo scoperto sulla strada che ci sono un grosso problema nella nostra città di mozziconi e abbiamo preparato un porta mozziconi proprio da regalare in quella giornata. Quindi oltre alla pulizia ci sarà anche un nostro gazebo che fornirà informazioni su quello che noi abbiamo imparato durante questo anno e che la cittadinanza appunto condividerà con noi. Monica Previati del CEA, il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Imperia. Monica, avete avvicinato anche gli studenti. Alessandro giustamente diceva che siamo alla fine di un percorso. C'è stata un po' una campagna educativa durata un anno intero possiamo dire. Sì, 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 possiamo dire così. Abbiamo fatto degli incontri per gli studenti ma anche per la cittadinanza. Abbiamo invitato esperti sia proprio nel campo della sostenibilità ma anche esperti ad esempio sulla sostenibilità dello sport. Quindi abbiamo cercato come dire di vedere la problematica dei rifiuti e le possibili soluzioni sotto tante diverse prospettive. Siamo andati anche nelle scuole medie e abbiamo cercato di parlare con i ragazzi e di capire anche quali potevano essere le loro domande cercando di dare a loro delle risposte. Abbiamo fatto anche uno spettacolo teatrale perché credevamo che appunto il linguaggio teatrale potesse essere un modo nuovo per parlare della sostenibilità. E quindi insomma abbiamo fatto un percorso che ci ha preparati per quella che poi sarà la giornata di domenica. Restiamo in argomento poiché il progetto è sostenuto dalla provincia d'Imperia. San Franco Grosso funzionario dell'ufficio ambiente della provincia d'Imperia e anche del CEA al centro di educazione ambientale provinciale con un lavoro insieme al CEA anche del Comune insieme a diverse associazioni per fare che cosa? Pulire le spiagge in che modo? Come? Perché? Questo è un progetto che ci è stato presentato dal Comune d'Imperia, dal centro di educazione ambientale del Comune che riguardava tutta l'aspetto di informazione, di sensibilizzazione dei cittadini sul discorso della differenziata che poi comprendeva anche il discorso delle spiagge. Siccome la provincia d'Imperia, l'ufficio ambiente della provincia d'Imperia ha soldi che sono stati assegnati dalla regione Liguria proprio per i comuni della provincia d'Imperia finalizzata la sensibilizzazione all'informazione dei cittadini sulla differenziata, abbiamo ritenuto meritevole e importante questo progetto e quindi l'assessore Balestra ha ritenuto doveroso assegnare il contributo per poter consentire la realizzazione del progetto al Comune e con Monesi Young. Il ruolo della provincia è stato quello di finanziare il progetto presentato dal centro di educazione ambientale del Comune, sapendo che anche il centro di educazione ambientale provinciale si sta spendendo insieme al cielo del parco e al cielo del Comune proprio in tutti i progetti che sono di sensibilizzazione della sostenibilità ambientale, della riduzione dei rifiuti e quindi ci rientrava anche questo progetto come finalità ultima, complessiva di tutta una politica della provincia in materia. Ecco, sessore Potesta, naturalmente è un finanziamento in tempi anche difficili sicuramente importante, ma è importante anche rispetto dell'ambiente. Domenica ci sarà un appuntamento dedicato alle spiagge proprio all'inizio della stagione. Beh, certamente. Comunque, diciamo, prima di tutto dico che il Comune di Imperio è stato anche molto fortunato di aver potuto usufruire e dell'appoggio del centro di educazione ambientale della provincia, che ha finanziato, del centro di educazione ambientale del Comune che si è dato da fare attivamente per la realizzazione del progetto e soprattutto dalla disponibilità di Monnes Young, che è una situazione di volontario che senza nessuno scopo di lucro, assolutamente, anzi solo per amore ambientale, si è impegnata in un'attività che è veramente più che incommiabile, perché ha portato avanti tutta una serie di iniziative che noi non avremmo potuto neanche fare, perché la parte pubblicitaria, la parte di informazione della cittadina è esclusivamente competenza per quanto riguarda il contratto che abbiamo capitolato da palto della Tradeco, quindi non avremmo neanche potuto noi finanziarne, pure volendo l'abbiamo potuto fare. Quindi è stata un'occasione veramente unica e diciamo irripetibile, anzi, speriamo che si ripeta però peraltro, perché l'anno prossimo vorremmo portare avanti incrementare e magari poter dare qualche contributo più concreto. Comunque il discorso chiaramente della pulizia delle spiagge in questo momento è molto sentito, siamo all'inizio della stagione balneare, qui tra l'altro quest'anno abbiamo avuto una stagione particolarmente sfavorevole dal punto di vista dei detriti accumulati sulle spiagge, avete visto quante tonnellate di materiali sono accumulati in causa condizioni meteorologiche, meteomarine che si sono verificate e adesso noi stiamo pulendo tutte le spiagge, abbiamo quasi finito il nostro piano di pulizia, chiaramente però c'è sempre una parte di pulizia, un affinamento dell'opera di pulizia che va fatta e quindi questa occasione è un'occasione veramente importantissima perché col lavoro si dà visibilità proprio a un impegno ambientale che si spera che abbia un effetto positivo in generale su tutta la cittadinanza. La Questura di Imperia in collaborazione con l'Istituto Tecnico Ruffini e l'Istituto Comprensivo Litardi con il patrocinio del Centro Provinciale Antiviolenza e della Consigliera di Parità della Regione ha promosso un'iniziativa volta a sensibilizzare il mondo della scuola, del lavoro e delle istituzioni in merito al contenuto della recente legge contro la violenza di genere. Gli studenti hanno contribuito a realizzare una brochure che sarà distribuita al pubblico. La brochure sarà presentata ufficialmente domani sera alle 21 all'auditorium della Camera di Commercio Imperiese. Scopo del progetto e dell'evento è di sensibilizzare l'intera cittadinanza in merito ai numeri preoccupanti di donne vittime di episodi di violenza anche in Italia. Al termine della serata saranno premiati dal questore i lavori realizzati dagli studenti. Lo scorso 10 maggio a Recanati lo scrittore e poeta imperiese Maurizio Dante è stato premiato nell'ambito della cerimonia che si è tenuta nella prestigiosa Sala Foschi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani di Recanati che lo ha visto vincitore nella sezione poesia del secondo concorso nazionale Tracce per la Meta con un testo dal titolo Pensando a Silvia. La Croce Bianca di Imperia festeggia i suoi cento anni di vita con una serie di iniziative pubbliche. Questa mattina sono stati premiati gli allunni che hanno partecipato a un concorso di disegno. Vediamo. Questo è il disegno che ha vinto il concorso indetto dalla Croce Bianca per i suoi cento anni nelle scuole dell'infanzia di Imperia. Roberto Trenchieri, un concorso per portare anche un messaggio diciamo di cultura della solidarietà ai bambini. Sì, assolutamente. Questo è un concorso basato soprattutto per diffondere l'importanza del volontariato. Abbiamo appunto voluto farlo con i bambini dell'infanzia. Oggi, grazie al patrocino del Proeditorato Agli Studi, oggi il Proeditore ha premiato i bambini. Erano tutti molto felici. Bambini della scuola di piani, dell'infanzia di piani dell'istituto comprensivo Littardi. La bambina che ha creato questo capolavoro che noi adesso utilizzeremo per realizzare delle magliette a tiratura limitata che utilizzeremo durante i servizi, quindi la porteremo sempre con noi, si chiama Chiara e è appunto della scuola dell'infanzia di piani. E quindi il suo disegno campeggerà su queste magliette. Presidente Massimo Faraldi, cento anni, un bel compleanno, è previsto anche un appuntamento pubblico, immagino. Cento anni della Croce Bianca sono un avvenimento particolare. Ovviamente abbiamo pensato di organizzare questa manifestazione che si terrà il 24 maggio sul molo lungo di Porto Maurizio in prossimità della Palazzina Liberty. Ci sarà l'inaugurazione di due mezzi nuovi, di un'ambulanza e una vettura. Ci sarà una manifestazione con le consorelle che già numerose ci hanno confermato la loro partecipazione. Sarà la festa della Croce Bianca e la festa del volontariato. Per noi è un onore portare sul cuore lo stemma della Croce Bianca, così come è un onore fare del volontariato. Dopo seguirà un rinfresco per tutti gli intervenuti e la stessa manifestazione però si protrarrà fino alla 29 maggio con l'esposizione di documenti storici della Croce Bianca sempre nella Palazzina Liberty. Il 24 maggio, Alberto, a partire da che ora? Allora, dalle ore 16 noi inaugureremo questa mostra e i mezzi nuovi e una cosa importante invece è che tutti i bambini che hanno aderito a questo concorso, quindi tutti i bambini dell'infanzia esporremo i loro disegni all'interno della Palazzina Liberty, quindi è un'occasione anche per i genitori di venire a trovarci e vedere appunto i disegni dei loro bambini. È dalle 10 e dal 24 maggio inizierà dalle 16, poi gli altri giorni dal 25 al 29 sarà dalle 10 alle 12 e poi al pomeriggio dalle 16 alle 20. Ci sarà sempre un volontario di noi, qualcuno di noi, per spiegazioni, chiarimenti, sono tutte fotografie storiche dal 1914 ad oggi. Proseguono a pieno ritmo i preparativi dell'orchestra giovanile del ponente Ligure Ligeia in vista del concerto in programma sabato sera alle ore 21 al Teatro dell'Opera del Casinò di Sanremo. Noi siamo andati a curiosare durante le prove, vediamo. Siamo all'istituto comprensivo Calvino di Sanremo, qui in questa sala sta provando l'orchestra giovanile Ligureia, oltre 40 elementi, un progetto che coinvolge giovanissimi, media età, anche più anziani, master, la primavera, insomma un progetto che è anche un progetto educativo, entriamo, stanno accordando gli strumenti e adesso inizieranno le prove perché l'orchestra di Ligureia presto dovrà esibirsi in un importantissimo concerto proprio qui a Sanremo. Presidente Alfonso Moretta, queste prove qui a Sanremo servono per preparare un concerto, insomma un appuntamento pubblico, allora quando e dove vi rivediamo? Sono particolarmente onorato di invitare la cittadinanza al concerto dell'orchestra giovanile del ponente Ligure Ligureia che appunto si esibirà sabato 17 maggio alle ore 21 presso il teatro dell'Opro del Casino di Sanremo. Questo concerto è la concretizzazione di un progetto che facciamo in collaborazione con l'orchestra giovanile del Conservatorio Vivaldi di Alessandria. I ragazzi suoneranno insieme e si esibiranno suonando un capolavoro della storia della musica qual è il Gloria di Antonio Vivaldi per solo cori e orchestra d'archi e con il coro di adulti del Conservatorio Vivaldi di Alessandria. Francesca Boss è uno dei tanti genitori che non solo accompagnano i figli ma mi sembra che seguiate un po' direttamente questa attività dell'orchestra giovanile che è un'attività che non insegna solo la musica, qua mi sembra che ci sia un messaggio formativo, educativo per questi ragazzi. Ha ragione infatti, è un fortissimo messaggio educativo, d'altronde anche il titolo del concerto Musica Senza Confini vuol coinvolgere anzitutto generazioni anche diverse, infatti suoneremo col conservatorio, con il coro del Conservatorio di Alessandria che sono già membri adulti, ma soprattutto i ragazzi, i ragazzi che anche in questo giorno di festa, che è la festa di noi mamme, sono qui a prepararsi per fare una bella figura e ora il 17 c'è il giorno del concerto. Giacomo Perotto è uno degli allievi con in mano il suo clarino, allora beh intanto come mai la scelta proprio del clarino? Beh ho iniziato a nove anni, così un po' per divertimento, ho visto c'era un mio amico che lo suonava, mi piaceva, ho voluto provare e adesso sono, questo è il settimo anno che vado avanti a studiare il clarinetto e niente è stato un po' così, adesso ho iniziato a piacermi sempre di più e continuo a studiarlo. Ho visto che siete in tanti, di tante età, come riuscite a fare gioco di squadra, come vi trovate in questa formazione musica? Beh siamo tutti, sì, diverse età, però comunque abbiamo tutti il stesso intento, cioè di farli suonare insieme, quindi alla fine ci si riesce, cioè siamo comunque come caratteri anche abbastanza simili, non ci sono grandi diversità e quindi viene abbastanza facile, naturale. Quanti anni hai? Io ho sedici. Sedici anni e adesso c'è questo concerto, è un teatro importante qui a Sanremo, quindi insomma un po' di paura, preoccupazione? Ma neanche, cioè no, neanche troppo, non mi viene di solito di grande ansia per i concerti, robe così. Quindi già pronto a affrontare il palco e il pubblico? Beh non sarà la prima volta immagino. No, 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 questa orchestra è almeno tre anni che ci sono, quindi alla fine l'abitudine è abituato a non avere tanti timori anche per i concerti, prima era un'altra cosa, adesso andando avanti passa. Marco Curtino dice che suoni il violino mi sembra chiaro, però mi hanno spiegato che tu sei violino di spalla dell'orchestra, che cosa vuol dire? Vuol dire che io occupo il posto più importante nell'orchestra, io guido le file dell'orchestra, non soltanto io, condivido questo posto con il mio amico Simone Schermi, che è la spalla dei secondi violini e nel Gloria sarà la spalla dei primi violini della nostra orchestra. Caspita, allora un ruolo importantissimo, quanti anni hai? Io ho soltanto 15 anni. Accidenti, mi dicono che sei anche appassionato di poesia, quindi hai proprio l'arte che ti scorre nelle vene. A quanto pare sì, però grazie. Senti, ma 15 anni, poi ci sono ragazzini molto più giovani, però so che avete un progetto che vi porta a lavorare anche con un coro dove ci sono dei settantenni, insomma, è proprio intergenerazionale, possiamo dire, questa orchestra di gay. Assolutamente sì, infatti lo spettacolo si intitola appunto Musica senza confini, i confini non sono quelli soltanto dello spazio, ma anche quelli del tempo, tra le generazioni, noi proviamo a rompere la barriera generazionale con questo concerto. Maestro Massimo Dal Pra, beh, lei ha il suo bel da fare, qui c'è una squadra di archi, ma non ci sono solo questi, un'orchestra oltre 40 elementi, mi pare. Eh sì, esattamente, è un bel progetto perché unisce ragazzi che sono già avanti con gli studi, quantomeno stanno preparando in alcuni casi anche esame di conservatorio, e altri come questi ragazzini che vediamo alle mie spalle, che stanno cominciando adesso, si stanno unendo ai più grandi in un percorso che li porterà poi a crescere sicuramente. Ecco, un'unione che funziona anche con lo spartito davanti, c'è un amalgama vero, sincero, insomma. Certo, perché poi quando i ragazzini più giovani si trovano a contatto con quelli più grandi, si divertono nel fare una cosa insieme, non possono che provare soddisfazione e al contempo imparare, quindi è una soddisfazione anche per loro. A voi piace suonare? Sì! Quattro giovani violinisti dell'orchestra giovanile del ponente Ligore Ligheia, tutti gli allievi del maestro Alfonso Moretta si sono distinti nel quinto concorso musicale nazionale Virginia Centurione, tenutosi a sé stripponente, ottenendo il massimo dei voti. In particolare si tratta di Simone Scherni, che ha ottenuto il primo premio assoluto, Gabriele Orsogna, primo premio, Irene Geragno, primo premio e Marta Maisano, secondo premio. I musicisti erano accompagnati al pianoforte dal maestro Diego Genta. Domani alle ore 21 nella sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Alassio, presieduta da Claudio Gavaldo, si terrà la conferenza dal titolo dal 1500 Alassio Albenga, venti di guerra. Relatrice è la studiosa Patrizia Valdiserra, che offrirà uno spaccato di storia locale volto a illustrare momenti d'attrito tra due località costiere con termini quali il comune dal Benga e il piccolo borgo di Alassio, desideroso da affrancarsi da un mal tollerata sudditanza. L'incontro sarà condotto dal giornalista e scrittore Daniele Lacorte. Ed ora andiamo a vedere insieme com'è la situazione in autostrada. A seguito dell'avvio dei lavori di riqualificazione della barriera autostradale di 20 miglia e pertinenze annesse, è attualmente in atto la prima fase di lavoro che prevede l'occupazione con cantiere della zona centrale del piazzale, con conseguente diminuzione delle piste fruibili sia in uscita che in entrata. Tali limitazioni, seppur contenute, potrebbero in condizioni di traffico intenso creare situazioni di code. La direzione dell'autofiori si scusa con il disagio volto a migliorare il servizio e a creare la nuova porta d'accesso in Italia. Sul sito dell'autostrada dei fiori si possono reperire ulteriori informazioni in merito al progetto. Ed eccoci alle previsioni meteo a cura di Arpal Meteo Liguria. Domani venerdì 16 maggio ancora condizioni di tempo stabile con cielo in prevalenza poco nuvoloso. Possibili temporanei passaggi di nubi alte nel corso della giornata. Permane il flusso sostenuto dai quadranti settentrionali. Umidità sui valori bassi, venti al mattino, settentrionali moderati, localmente forti fino a 50-60 km orari. In calo nel pomeriggio e temporanea rotazione da ovest. Mare in calo fino a poco mosso, localmente mosso. Dopodomani, sabato 17 maggio, cielo in prevalenza poco o irregolarmente nuvoloso. Possibili locali addensamenti, in particolare nell'interno e nel corso del pomeriggio, a cui potranno essere associati deboli e isolati piovaschi. Umidità sui valori medi, venti deboli o moderati, in prevalente regime di brezza. Mare tra poco mosso e mosso in calo. E' tutto, grazie per averci seguito e buona serata.